Allora, io sono stato silente qualche giorno perché era giusto che fosse così, ho sentito, letto le cose più disparate, le cose corrette, cose puntuali, preoccupazioni legittime, legittime sottolineature. Allora io credo, dal mio punto di vista, che si debba ripristinare un briciolo di verità. Il primo, questa città, e mi riferisco a Roma Capitale, ha un solo sindaco, che è un sindaco che è stato eletto dal popolo, che ha ricevuto il mandato dal popolo e tale è fino a che questo sindaco rimarrà in carica. Non possono esistere giuridicamente diarchie, non possono esistere consolati, non possono esistere situazioni che in qualche modo depotenzino il ruolo, la funzione e consentitemi di dire la responsabilità che è in capo al primo cittadino.